A quattro mesi dalla vicenda, i carabinieri di Teramo hanno arrestato i due uomini che lo scorso 14 maggio aggredirono Cetteo Di Mascio, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile del Teramo Calcio ed ex allenatore della prima squadra, provocandogli gravi lesioni al volto. Le indagini portate avanti dalla compagnia locale dei carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi nei confronti di due uomini, un trentenne di Bellante e un ventitreenne di Mosciano Sant'Angelo. I due, intorno a mezzogiorno, si recarono a bordo di una Ford Fiesta allo stadio Bonolis di Teramo e si introdussero all'interno degli uffici con una scusa. Una volta entrati, aggredirono fisicamente Di Mascio. Il ventitreenne lo colpì al volto con un pugno molto violento che gli provocò diverse fratture alle ossa facciali, tali da essere qualificate come lesioni gravi. I fatti, così come riferiti dalla vittima e dai testimoni presenti, hanno trovato conferma nelle minuziose indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Teramo, che attraverso indagini tradizionali e accertamenti tecnici hanno ricostruito perfino nei dettagli le fasi dell'aggressione, giungendo, attraverso l'incrocio delle testimonianze e la visione delle videoriprese delle telecamere di sorveglianza, ad identificare i due aggressori, nei cui confronti sono state effettuate altrettante perquisizioni, sia personali che nei rispettivi domicili. Il trentenne di Bellante e il ventitreenne di Mosciano al momento si trovano agli arresti domiciliari.